Settembre in Toscana significa anche e soprattutto vendegna e allora ecco anche il via ufficiale alla 93esima edizione della Festa dell'Uva di Impruneta con l'inaugurazione della mostra dell'artista Fuad Aziz presso la Sala Binazzi in piazza Buon del Monti. È sua la 33esima etichetta d'autore coloratissima con il viola e i vinaccia delle figure che richiamano anche i colori eccesi del vino. Io sono alla ricerca della bellezza attraverso il volto umano, attraverso il colore. Oggi presentiamo anche l'etichetta d'autore fatta da un artista meraviglioso che è Fuad e sì siamo al nastro di partenza, il mese sarà lungo, pieno di iniziative fino ad arrivare alla meravigliosa domenica della sfilata. La coppa della 93esima edizione in terracotta è realizzata invece dall'artista Tiziano Baldi della Fornace Masini di Impruneta. Tanti eventi in programma dal Peposo Dei alla cena dei quattro rioni che sono la vera anima di questa festa ma anche la corsa dei carretti e spettacoli con canti tradizionali. Ospite d'onore Sandra Milo ritorna dopo 62 anni ad aprire la 93esima Festa dell'Uva. Le novità più importanti riguardano la mostra a mercato dei Colli Fiorentini 14 e 15 settembre nella quale ci sarà anche la consueta gara dei quattro rioni con la ricetta del Peposo tradizionale. L'altra novità che abbiamo deciso di inserire quest'anno nel giorno clou che è il 29 settembre domenica è una Marcord, avremo come ospite Sandra Milo. Sandra Milo che è venuta da noi nel 1957 per cui per noi rappresenta un personaggio che ha unito la sua carriera al momento in cui la Festa dell'Uva riapriva i battenti dopo la guerra.